Ciao a tutti, vediamo come possiamo cancellare i cookie da Google Chrome. È molto facile, tre puntini qua in alto, premete, cronologia, premete su cronologia, andate su cancella dati di navigazione e qua sotto, sarete in base voi, avrete cookie e altri dati dei siti. A voi interessa eliminare questo, se poi volete eliminare cronologia e cache, a me sta bene. Quello che vi interessa è questo qua, quindi eventualmente gli altri despuntati. Lo potete fare anche in avanzate, avete semplicemente più roba, quello che vi interessa sono i cookie, scegliete da quando volete pulirli, quindi quanto andare indietro, fate cancella dati e siete a posto. Ma non è finita, perché in realtà c'è un altro trucchetto aggiuntivo che vi voglio far vedere. Tasto destro, ispeziona, oppure F12 e andiamo, questo per chi vuole nerdarci un po' di più, andiamo su application e vedete qua cookie, se premete avete tutti i cookie legati ad un sito, quindi ogni volta che fate F12 vi si aprono i cookie legati ad un sito, pulite semplicemente da qua, vedete? Pulisco e sono a posto, ok? Questo è extra per chi vuole addentrarsi in queste cose, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!